Nello scorso fine settimana a Ficarazzi, in provincia di Palermo, si sono svolte le prime fasi di qualificazione ai campionati italiani assoluti e la categoria Under 17 di pesistica. I ragazzi della sezione Fiamme Oro di Caltanissetta si sono distinti nelle varie categorie, tra cui Federico Labarbera nella categoria 500 kg, Manuel Di Maria categoria 61 kg, Martia Riggi e Ginevra Panebianco 49 kg Under 17. Questo buon inizio lascia ben sperare per i risultati futuri. Ne abbiamo parlato con l'ex campione olimpico Mirko Scarantino nella sua nuova veste da allenatore. Ho preso questo incarico da poco tempo e sono diventato tecnico della sezione giovanile delle Fiamme Oro, grazie al direttore tecnico di Roma e dirigente che mi hanno dato la possibilità di incominciare questo percorso. Spero di dare ai ragazzi e ai giovani tutto quello che ho fatto io in questi anni di attività sportiva e di trasmettere a loro qualcosa di importante e di intraprendere questo ruolo con professionalità, dedizione e tanto impegno, come ho fatto l'atleta. Ora ho la possibilità di essere qui aggregato a Caltanissetta nella sezione giovanile dove fanno parte anche il tecnico Morizio Sardo e Salvatore Parla, dove collaborerò con loro. Abbiamo tanti giovani, sabato e domenica abbiamo avuto i campionati regionali per la fase della qualificazione ai campionati italiani con tantissimi giovani della sezione giovanile delle Fiamme Oro. Sono dei ragazzi in base di crescita e sicuramente cercheremo di portare loro a dei risultati importanti perché hanno delle grandi capacità, ma la cosa più importante è iniziare con i giovani per poi intraprendere dei importanti risultati che sono la cosa che più conta.